La protesta dei trattori ha dato vita all'Aquila oggi ad un corteo pacifico partito dalla zona del cimitero e arrivata alla fontana luminosa che ha tentato di creare meno disagi possibili alla popolazione. Comunque un corteo con un trattore da pripista con il resto dei partecipanti a piedi. Le ragioni della protesta ormai sono noti a tutti e si è deciso di organizzare una manifestazione pacifica iniziata ieri con un presidio permanente per spingere tutti ad ascoltare le ragioni di agricoltori e allevatori. L'unico rammarico per alcuni è che si vorrebbe una partecipazione corale più ampia a queste proteste da parte della comunità locale. Le problematiche sono ampie e non bisogna sottilizzarsi solamente sul carburante in pratica sono tutte le politiche green dell'Europa che secondo me ci stanno deviando da quello che è il nostro presente e il nostro futuro. E un'altra cosa vorrei dire oggi non vedo tante persone e vorrei sottolineare che i problemi sono di tutti non sono solo i nostri. alcune persone hanno sottolineato che noi l'abbiamo buttata in cacciara a mangiare ma noi il cibo non manca. I problemi sono della popolazione perché l'euro, il caro euro, le politiche europee in generale stanno affossando tutto. La protesta è stata impostata in un certo modo pacifica proprio per attirare più persone possibile perché se vai allo scontro logicamente poi ti metti a scontrare con la popolazione che ci avrà dei disagi quindi abbiamo impostato una protesta pacifica però non ho visto questo riscontro. Questo mi dispiace, solo questo mi dispiace. Le problematiche le sanno tutti. E un'altra cosa io vorrei che tra sindacati che fanno da tramite tra noi e la politica ci sia più chiarezza. Noi ci sentiamo abbandonati soprattutto ai sindacati. Alla partenza c'erano anche dei politici che hanno voluto raccogliere il grido di dolore di una categoria che oggi soffre per le linee della comunità europea e per tanti altri problemi piccoli e grandi che stanno mettendo in ginocchio le aziende agricole. Organetti, campanacce e pure dei giovani che hanno portato striscione e colore al corteo, scortato da vigili urbani, polizie e carabinieri. Alla politica chiediamo di intervenire sulle leggi green che ci impone l'Europa che sono totalmente dannose per noi tutti, non solo per noi allevatori o agricoltori. Quanta fatica si fa a sostenere oggi le vostre aziende? Ce la fate? È difficilissimo. Quando cominci a lavorare 15-16 ore al giorno e alla fine della giornata stai in passivo, è dura. È dura. Avendo famiglia, figli, mutui, non è facile.